Testimonianza di uno studente di azione universitaria, ovvero il partito politico intra-universitario, che possiamo considerare la parte lesa di queste manifestazioni, ovvero gli studenti che, insomma, essendo di destra, sono stati ghettizzati e cacciati dall'università, gli hanno lanciato bottiglie di tutto, e oggi siamo qui, appunto, ad andare a vedere cosa hanno da dirci questi poveri ragazzi che, obiettivamente, non hanno fatto nulla di male. Però, prima di iniziare, mi presento, sono Massimo Salvati e vi do il benvenuto su Speedy News. Oltre a questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace e un commentino alla fine del video per farmi sapere cosa ne pensate. Detto ciò, iniziamo subito e non perdiamo altro tempo. Allora, se vogliamo capire cosa è successo alla Sapienza, noi abbiamo qui degli studenti che, praticamente, sono di azione universitaria, che ci hanno raggiunto proprio qui alla Trattoria. Allora, abbiamo Luca, che è uno studente di medicina, tra l'altro. Allora, cosa è successo? Ci puoi spiegare bene in questi giorni, visto che tu eri lì? Assolutamente sì. Infatti, segnalo all'Onorevole del Partito Democratico che sicuramente non più di noi può sapere quello che è realmente successo all'interno dell'università. Bene, per esempio... La Controparte è stata intervistata mille volte, è sempre stata ghettizzata brutalmente, ha sempre confermato il fatto che hanno fatto violenza su tutte queste persone, come ad esempio nei video di ieri, che vi invito ad andarvi a recuperare. degli estremisti anarchici, se così li vogliamo chiamare, hanno dichiarato che, ad esempio, hanno invito contro Parenzo, in quanto ebreo e comunque sionista, sostenitore del Partito di Israele. Perché, ovviamente, se è ebreo sostiene Israele. Però, va bene, questi sono piccoli dettagli, continuiamo, insomma, con il video. La giornata di ieri siamo stati circondati durante, sì, siamo stati circondati durante un normalissimo volantinaggio da centinaia, centinaia di esponenti dei centri sociali che volevano, con la violenza, tirandoci bottiglie di vetro che si spaccavano un metro da noi, tirarci fuori dall'università. E questo non è dovuto alla presenza degli onorevoli di Fratelli d'Italia, chiaramente. Per quale motivo? Perché loro, perlomeno, hanno espresso solidarietà agli studenti che sono stati, in qualche modo, vittime di violenza. A differenza della maggior parte, se non tutti, i partiti della sinistra, che non hanno espresso una parola, una parola. Nessun corteo, nessun corteo. Stavano facendo volantinaggio per le... No, le immagini sono stati... Chiaramente, chiaramente, che cosa è successo? Siamo stati accerchiati e quindi siamo dovuti... Quanti eravate? La violenza la dobbiamo condannare tutti, però condanna le basta. Quaranta saremo stati... Chiaramente, saremo stati una quarantina, ma siamo stati appunto richiamati proprio perché c'era un momento di tensione, ma non c'era nessun tipo di corteo, era un normale volantinaggio e i deputati di Fratelli d'Italia non volevano assolutamente aumentare la tensione. Ma figuriamoci, piuttosto chiediamo a voi di esprimere solidarietà e non l'abbiamo sentito da parte di voi. Io, con chiunque vittima di violenza, esprimo solidarietà. Allora, sentiamo. Parliamo di questo clima, no? Allora, sì, questo è un clima che le immagini raffigurano, penso, alla perfezione. Abbiamo visto tutti queste scene e credo che si commentino da sole. Quello che possiamo dire è che noi conosciamo i protagonisti e i complici di queste immagini. I protagonisti sono i centri sociali, le liste di estrema sinistra presenti nella nostra università e i complici siete voi, onorevoli del Partito Democratico, che è legittimato il silenzio e le loro azioni. Perché questo è un discorso senza contraddittorio. Non lo accetti, non lo accetti, mi dispiace, non lo accetti perché noi viviamo l'università tutti i giorni. Paolo inviterà i vostri contramenti. Noi viviamo l'università tutti i giorni. Sì, sì, ma io li inviterò, li ho invitati ieri. Guardi, le racconto un'esperienza personale. Ma non i centri sociali. Le racconto un'esperienza personale. Ieri c'erano gli studenti di sinistra. Sì, sì, ma le racconto un'esperienza personale. Ieri ero all'interno di un bar con un amico all'interno dell'università per bere un bar tranquillamente in fila e cinque di questi soggetti, che si possono vedere tranquillamente in tutti i video, ci hanno accerchiati e hanno iniziato a urlare. Ecco, due fascisti all'interno del bar. Noi siamo stati tranquilli, gli abbiamo risposto sorridendo, ridendogli in faccia. Ma sapete qual è il sunto di tutta questa storia? Che alla fine chi è rimasto nel bar a prendere il caffè con noi ha detto bravi ragazzi. Chi sono questi scappati di casa? Perché le persone lo capiscono. Chi può rappresentarli e chi no. Lo capiscono. E noi possiamo. E tra questi scappati no. Io penso che bisogna solidarizzare con chi subisce violenza, chiunque sia. Diciamo. Sì, però è inutile che fai il paraculo adesso. Diciamolo. È inutile che fai il paraculo. Perché sei stato fino adesso a dire che non c'è la controparte e robe del genere. Ma la controparte c'è stata perché fino adesso sono stati intervistati soltanto membri di sinistra, delle liste di sinistra. E tutti quanti i membri delle liste di sinistra sono emersi come dei meri nulla facenti, per di tempo, che non fanno assolutamente nulla. Ma se non protestare, utilizzare il classico... le classiche parole reazionario fascista, governo reazionario, criminale, tutte queste cazzate del genere. Dai. Basta. Questa retorica non regge più. Questa retorica non regge più. Ha finito... Sono finiti i tempi in cui queste cose funzionano. Il fascismo non esiste più. Avete stufato. Avete stufato. Con queste stupide affermazioni. Pertanto io mi sento di dare ragione al 100% agli studenti aggrediti. Ma sono curioso di continuare con la risposta, in questo caso, del membro eurodeputato del PD. Su questo siamo tutti d'accordo. Poi tu racconti il tuo episodio, qualcuno ne racconterà un altro, no? Ecco. Va bene. Ieri abbiamo avuto studenti di sinistra che ci hanno dato la loro visione dell'accaduto. Poi in una prossima puntata li mettiamo a confronto e così, come del resto, noi facciamo sempre. Perché noi facciamo parlare tutti, tutti ci danno atto che qui parlano tutti. Quindi questo è un tratto distintivo di questa trammissione, come tutti sanno, e anche di diritto rovescio. Andiamo in pubblicità. Questo era il video in questione. Io penso, da quello che è emerso, che gli studenti intervistati ai destra si vedono anche proprio ad occhio. Il livello, diciamo, leggermente migliore, molto più pagato, molto più tranquillo, senza urle, senza grida, senza veramente... Così grezzo anche nei modi di fare, no? Cioè, possiamo anche vederlo, insomma. Gli studenti che sono intervenuti oggi hanno semplicemente denunciato il fatto. Sono stati anche abbastanza gordiali. E ovviamente non sono situazioni piacevoli quelle in cui si è trovato anche quello studente, che stava semplicemente al bar. Sono arrivate cinque persone, l'hanno cerchiato. E gli hanno detto, ah, fascista, fascista, eccetera, eccetera. Cioè, questi sono veramente clima... questo è un clima senza senso assurdo, quasi, possiamo dire. Quasi assurdo, che non sta né in cielo né in terra. Perché se voi, studenti di sinistra, siete i primi democratici, allora dovete farlo seriamente. Dovete essere democratici seriamente, non per finta. E quindi impedendo di parlare alle altre persone. Perché, facendo in questo modo, arriviamo in un clima... Si arriva in un clima quasi dittatoriale. E questo non è positivo per un ambiente democratico che la sinistra, storicamente, ha sempre difeso. Ma a quanto pare, da quando ha vinto la destra, nelle ultime elezioni, insomma, del Parlamento, mi sembra di capire che questo va... venga un po' meno, ecco. Questo venga un po' meno in quanto sono, come si dice, distrutti da questi risultati e delle elezioni, insomma. Anche se recentemente la sinistra ha vinto. Però è da dire anche che quando Michele De Pascale ha vinto, ad esempio, in Emilia Romagna, è stato intervistato, e ha anche fatto un video del genere, sempre da intervistata del De Pio, è stato tranquillo, pagato, non si è attaccato a niente, ha parlato di problemi seri. E' questo quello che deve fare la sinistra, è quello che deve fare ogni singolo partito politico. Non si deve attaccare a queste stronzate, a cimentare l'odio, come ha fatto, ad esempio, Cristian Raimo, che è il professore di storia e filosofia alla Sapienza, e quello che ha fatto, ovviamente, essendo parte di Alleanza Viglia e Sinistra, è fomentare anche un po' l'odio verso Valditara, dicendo che è un bersaglio debole, va colpito. E quando tu dici così a una massa di persone ferocite, ovviamente quelle sono, non voglio dire autorizzate, ma sono, in un certo senso, invogliate a fare cose assurde. E questo non va bene. Penso di aver parlato già abbastanza. Quello che voglio dirvi è, esprimete la vostra opinione nei commenti, sono curioso di sentirla. E vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace, e se volete sostenere il canale perché vi piacciono i miei contenuti, io vi invito ad abbonarvi al canale. Detto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!